Buonasera a tutti, oggi mercoledì 12 novembre abbiamo la terza giornata del torneo Fondazione Atlante Soccer League. Partita decisiva abbiamo qua alle 21.15 la squadra appunto di AADV Entertainment rappresentata dal capitano Matteo e dall'altra parte abbiamo Barceló con Fabio, difensore della squadra Barisola. Una partita molto importante perché abbiamo appunto punteggio pari quindi in questa partita si deciderà la squadra che passerà appunto e potrà accedere quindi direttamente ai quarti di finale. Passo la parola a Matteo per sapere cosa ha fatto durante la settimana, come si sono pronti appunto per diciamo giocarsi questa importante partita di questa settimana? Questa settimana ci siamo un po' allenati, speriamo bene anche perché essendo decisiva chi vince passa e vediamo in bocca al lupo anche agli avversari e speriamo di giocare bene e di divertirci. Facciamo l'in bocca al lupo però dobbiamo pensare la palla direttamente anche a Barceló? Diciamo Barceló si sente un po' rammaricata per i punti tolti a mio avviso ingiustamente per una cosa non saputa però giusto così entreremo in campo stasera per vincere non per partecipare. Comunque una buona partita è una striversaria di ADV. Perfetto semi fair play in bocca al lupo e ci vediamo quindi dopo la partita. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. 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 , 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 ciao. Grazie a tutti. 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 Via! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.